Adesso abbiamo praticamente posizionato tutta la carpenteria metallica che creerà il nostro patio all'intorno del quale si svilupperanno poi tutti gli uffici. Ci piace l'idea che comunque anche il cliente nel suo piccolo riesca a intervenire con noi e aggiungere qualche cosa. Quello che dobbiamo cercare di fare è anche evolvere la maniera in cui noi vediamo le cose. La sostenibilità per noi diventa una missione primaria. Questa è veramente una carezza dal futuro. Sono passati 20 anni e abbiamo deciso di celebrare tutte le persone che fanno parte di Golden in un libro. Un libro che possa raccontare tutto quello che è stato fatto in questi anni. Vi assicuro, a partire da voi, fino a ognuna delle persone che mi ha dato uno sguardo, mi ha offerto un caffè, col quale abbiamo fatto un viaggio, mi ha davvero aiutato e ispirato tantissimo.